Si può bere molto bene senza spendere molto. In questi video vi presento una selezione di vini eccellenti. Vi presento questa bottiglia di vino rosso. Siamo in Piemonte, esattamente nel Langhe, stiamo parlando di Barolo, uno tra i vini più prestigiosi che abbiamo in Italia. Questo vino è 100% uve nebbiolo, sta 24 mesi in tonne di rovere, quindi fa un affinamento in legno molto importante. È un vino di grande persistenza, un vino lungo, piacevole al palato, ha dei sentori floreali e delle note di cuoio. È un vino importante, come ci siamo detti, è un vino da bere tra i 16 e i 18 gradi e lo abbinerei con un bellissimo brasato di manzo.